Amici come state? Allora in questi giorni sto facendo un po' di riflessioni anche con Franci che a volte siamo troppo presi nel condividere un momento anziché viverlo totalmente pienamente e infatti spesso mi succede che magari sono troppo presa dal social in sé perché mi piace comunque condividere e intrappolare quell'istante e farlo vedere anche a voi che per me Roma siete una sorta di famiglia però facendo così spesso ho più il telefono in mano e non sono pienamente in quella situazione o in quel contesto quindi stavo valutando anche di fare magari un giorno di off senza telefoni totalmente non so, voi cosa ne pensate?